Se oggi sei qui, è perché credi nel domani. Sei curioso, appassionato, coraggioso, innovatore. Credi nella possibilità di fare la differenza. A te e a tutti voi. Diamo il benvenuto nel futuro dei data center. Un futuro sicuro, connesso e veloce. Per sentirsi più leggeri, come le nuvole. Sì, leggeri come il cloud. È un luogo che ospita il cuore del tuo business. Sempre a disposizione per tutti i tuoi dati. Protetti in spazi riservati. Sicuri. Sempre raggiungibili. Sempre al tuo fianco. Grazie a energia prodotta in equilibrio con il mondo. La tua rivoluzione digitale inizia nel cuore dell'Europa. Qui, alle porte di Milano. Dove puoi trovare soluzioni. Far crescere idee. Progetti. Sogni. Perché da qui passa il futuro della tua infrastruttura IT. Aruba Global Cloud Data Center. Home of your data. Heart of your business.